ciao ragazzi bentornati voi che siete super tecnicamente fantastici ebbene sì questi sono i video che mi piacciono le super anteprime che trovate solo qua se vi mettete la campanellina l'iscrizione riceverai sempre in anteprima tutte le novità sugli operatori mobile tariffe smartphone tablet recensione di tecnologia tutto e quindi clicca sotto i social per contattarmi ti rispondo sempre tutti link amazon per sostenere il canale acquista qualche prodotto lì e sostenere il cane bene iniziamo l'argomento è veramente di quelli succosi ilia di lancio forse ai primi di ottobre e le prime ilia box si avvistano rivoluzione nella rivoluzione qualcosa di innovativo che non se l'ha visto prima come sempre il ha abituato bene questo è un discorso da fare insieme perché ci sono delle novità importanti sono state avvistate le prime ilia box vi spiegheranno è un gioiellino tecnologico che solo idea da e usa già in francia è un hub router che insomma gestisce sia la rete fissa di ilia sia applicazioni interne e queste box sono già state avvistate nelle sim box quindi sarebbero già state distribuite però il lancio commerciale preferibile sarebbe ottobre perché va verso il black friday verso il novembre verso il natale eccetera eccetera ok quindi si sposterebbe di un mesetto non più i primi di settembre ma fine settembre prima di ottobre il lancio ho detto forse poi io rimango sempre fede la prima seconda settimana di settembre preferisco però potrebbe essere preferibile un lancio invece nelle ultime indiscrezioni rumors fine settembre primi di ottobre potrebbe io se dovessi scommettere oggi dico 70 per cento dentro il 15 entro il 15 settembre 30 per cento i primi di ottobre quindi rimango più propenso alla prima quindicina di settembre non alla seconda ma gli ultimi indiscrezioni aumentano per la seconda quindicina primi di ottobre cos'è questo gioiellino tecnologico beh abbiamo già visto la rivoluzione col mobile di questa azienda in continua crescita fin verso i 10 milioni di clienti quando all'inizio è riuscita io e mi ricordo che alcuni ma non solo quando il mio canale pochi devo dire la maggior parte che mi danno ragione e sanno che qua trovano sempre la novità e la verità di quello che verrà no e le anteprima e le magie che vengono fuori da qua sono sempre poi quello che succede veramente quasi sempre però in giro comunque anche qualcuno qua comunque diceva ma il dura due mesi da due dura un mese ragazzi io dicevo io sono sempre andato incontro correntino ed è un impero in avviene in italia per in italia leader entro cinque anni della telefonia mobile fissa io ve l'ho detto dall'inizio siamo a tre già quasi 10 milioni di clienti entro sei sette anni leader cioè io ve l'ho detto dall'inizio potete andare a rivedere i video non è che ci credevano certo che questi qua avrebbero fatto il botto perché hanno mentalità innovazione che gli altri non hanno simbox subito robe innovative semplici simi dal sito veloce tac neanche un centesimo d'aumento tariffe che comunque sono trasparentissime tutti i servizi inclusi chiaro giovanile mentalità aperta l'ho detto subito e così è stato un escalation andiamo verso gli 8 9 milioni di clienti una linea fissa che farà veramente una strage alla concorrenza c'è poco da fare team che tenta ad agganciarsi ovviamente con fiber cop ed è una grande notizia anche questa intelligentemente è un treno merci ragazzi le box di iliad no queste box di iliad qua sono praticamente un hub un router che oltre che gestire la linea di iliad meglio la linea internet di iliam day o anche l'applicazione interi tipo disney channel tipo network cioè non sono esclusi accordi di questo tipo quindi potremmo trarci per la prima volta come fa un po per un po per la sim box oltre a poter acquistare alla sim box la linea fissa semplicemente sottoscrivere il contratto velocemente con poche burocrazia pochi vincoli anzi vincoli zero potremmo avere questo box che ci permette di avere non solo una rete veloce ma anche applicazioni interne utilizzabili già in streaming quindi capito una rivoluzione un dispositivo a 360 gradi che oltre che essere un router è anche un'app un upgrade insomma di quello che può essere una box no ok quindi gestire meglio la rete wifi gestire meglio la velocità di internet gestire le applicazioni internamente da poter poi utilizzare ma attenzione voi di te ma ci sono già le box tv non è non è così è una è un software proprietario non usa android è un software sviluppato proprio con per illia apposito per la sua rete migliora la velocità migliora le applicazioni funzionerebbero con delle novità e delle ottimizzazioni proprio per la rete illia quindi una cosa proprio un gioiellino della tecnologia e questo gli altri non ce l'hanno e vedete già ti lancio super prezzo senza vincolo ti lancio la box che gli altri non hanno ti metto già un oggetto diverso per gestire la rete cioè ci sono un sacco di cose che fanno pensare che è un po come il mobile un po una rivoluzione nella rivoluzione quando si muove si muove per lanciare qualcosa che gli altri non hanno per fare da capoguida questo spiazzerà la concorrenza noi gli altri sono ancora lì con router a 5 euro al mese voi lo capitano a 300 euro se disdice entro un anno perché gli devi dare 5 euro per un router che lo trovi a 20 euro ovunque nei negozi solo fasto e va tolto finalmente questi 5 euro qui sono cose che non si possono più vedere loro invece arriva tanti danno la box inclusa che ti fa anche le applicazioni ti fa una linea oltre fino a 10 gigabit meravigliosa con un prezzo più basso senza vincoli sai cosa fa la gente disdice se ne va in ida punto è come per il mobile è così e lo vedi già dai commenti e sarà così purtroppo non c'è non c'è soluzione il team invece intelligentemente cosa fa si aggancia con l'istosco fiber cop tenta di resistere toglierà i 5 euro al mese adesso spariranno tutti 5 euro dai modem vedrete vedete magicamente è un tanto te ne hanno presi presi non è così la fiducia ormai il consumatore la dà chi la dà all'operatore che dall'inizio è così ed è giusto così ed è giusto così c'è poco da fare chi dall'inizio dalla trasparenza verrà premiato stufi ormai consumatore in un momento così difficile di pandemia con l'economia in difficoltà uno ancora di più cerca la trasparenza cerca la sicurezza usiamo internet per lavorare a casa internet per i contatti che non possiamo avere per le videochiamate internet per tanto cioè c'è un uso della rete 300 per cento negli ultimi due anni più elevato è ovvio e quindi abbiamo bisogno di un sostegno è semplice le cose semplici ragazzi le cose non vincolate io odio i vincoli qualsiasi cosa sia un vincolo ricordatevolo nella vita è galera ok la libertà è la libertà bisogna essere liberi liberi di scegliere non ne devono esistere vincoli una persona che si fa vincolare una persona morta prima di nascere ok per quello che io sempre ho detto i vincoli 24 mesi 26 mesi paghi la penale se esce non deve esistere io posso io mi vincolo il cliente si vincola quando non è vincolato io voglio rimanere rimango perché tu mi dai un servizio non me ne andrò non me ne andrò ok invece tu mi incateni io me ne vado a non mi fai andare ok paga una volta il tuo vincolo però poi non torno mai più ne hai perso per quello che la libertà è sempre la miglior cosa mai farsi vincolare nella vita in tutti i campi mai se ti ricattano ti obbligano vuol dire che c'è qualcosa che non va bene sotto ovviamente o c'è qualcosa di losco o c'è qualcosa di sbagliato c'è qualcosa che ti fa del male liberi sempre liberi di scegliere e di rimanere senza vincoli per quello che io sono sempre contro i vincoli in tutto proprio in generale no ma soprattutto sui sui contratti non esiste perché la fiducia io te la do in base al servizio che ricevo basta c'è una cosa molto semplice la vita è semplice si complica per niente la semplice cerca di semplificare costa così per sempre ti do quel prezzo di servizi basta star via duemila cose opzioni cioè sì vabbè tanti le vogliono poi tanti vogliono il cambio tariffa giusto quello bisogna farlo però dovete capire che Iliad non è un operatore virtuale che ha una seconda scelta con tutto il rispetto degli operatori virtuali è un operatore fisico deve avere il suo rientro appena arrivato in italia da qualche anno non ti permette ancora il cambio di tariffa un domani si potrà anche fare probabilmente c'è dei motivi economici c'è dei motivi commerciali c'è dei motivi strutturali per il quale non riesce a farlo non vuole farlo è una pecca va bene però ragazzi tutto il resto è verde tutto il resto è positivo se vogliamo metterci quel 10 per cento del cambio tariffa però non è un operatore virtuale Iliad non è che gli altri ti cambiano la tariffa in due secondi così gratuitamente gli operatori fisici quindi lasciamo stare i virtuali quindi da questo punto di vista questo box che è stato avvistato fa capire che lancio imminente ma che verrà anche in italia questo gioiellino della tecnologia che ci permetterà di gestire anche le applicazioni una rete migliore con software proprietario che non ha nessuno e lì è forse che il lancio può essere più vicino ad ottobre fine settembre primi d'ottobre per andare verso il periodo commerciale che settembre attenzione io dico dal 6 settembre al 6 di ottobre via vi do la copertina è un uomo sul razzo una persona su un razzo di Iliad quello che c'era free mobile vi ricordate seduta con la valigetta che parte questa la copertina linea fissa Iliad con l'omino con il razzo seduto vi do già l'anteprima anche del disegno dovrebbe essere quello le box e la date 6 ottobre 6 settembre 6 ottobre queste sono le due tranche il mese è quello l'unica cosa che mi è sfuggita è se il mobile sarà inclusivo sospetto che non includeranno subito i giga illimitati forse sì perché si parla anche di quel router che permette ovviamente di gestire solo similat che vi da 200 300 giga al mese che però servirebbe per inserire la simil limitata che vi danno insieme alla regna fissa quindi vedrebbero anche 300 giga al mese incluso i giga illimitati dipende poi dal prezzo del pacchetto quindi girano anche ste voci qua che notizie che stanno arrivando finalmente si muove la cosa beh ragazzi non ci resta che attendere io come sempre quando ho tanto così di news reali reali perché qui qui 90 per cento se non anche di più succede quello che si dice ciao e grazie come sempre